Salve a tutti ragazzi, sono Matteo del canale YouTube Superb84 Io generalmente mi occupo di grafica 3D, realizzo mini videogiochi, architettura, scene da rendering e tutto quanto E per caso mi sono imbattuto su YouTube facendo delle ricerche Perché sono capitato in questi video che raccontano che la terra è piatta Io mi sono guardato un po' di video e mi sono detto Voglio provare a realizzare il modello 3D perché comunque non mi convinceva a pieno come avevano impostato il modello Perché come dicono loro il sole a 5000 km di altezza Genera una parte della terra piatta con la luce e il resto rimane in ombra Illuminato parzialmente dalla luna quando è piena ovviamente Che anche lì devo capire come mai si spegne però vabbè Dicono che sono illuminate E ovviamente questa luna e questo sole sono piatti anche loro Quello che non mi torna Io qua c'ho un modello 3D e ve lo mostro Quello che non mi torna E' che io per realizzare questo cerchio di illuminazione nella terra piatta Come hanno fatto loro nei loro esempi Io questo risultato lo ottengo solamente Solamente ripeto se il sole è a forma di faretto Perché questa illuminazione qua è formata da una luce con un'angolatura a 90 gradi L'angolatura a 90 gradi si ottiene soltanto avendo un faretto Con una luce all'interno nel fondo del faretto Perché se io Adesso vi faccio vedere Perché se io dovessi Questo è il faretto questo qua Se dovessi abbassare la luce E metterlo A una Distanza tale che il sole sia piatto Questo come era nella mia logica In effetti Illumina praticamente Tutta la terra Piatta Adesso io lancio un rendering Per mostrare come sarebbe Se il sole fosse piatto Perché La logica vuole che se il sole è piatto Illumina A 180 gradi All'incirca Ok Non sarà uniforme Non sarà Pienamente alla stessa potenza Su tutta la parte della terra piatta Infatti se noi notiamo qua È più accentuata là Dove c'era l'angolatura prima E qua si vede che è leggermente più scuro Leggermente più scuro Ciò vuol dire che Non ci sarebbe mai la notte Sarebbe comunque sempre giorno Poi ovviamente il sole gira Come dicono loro E in certi punti sarebbe come Avere una giornata di mezzogiorno Col sole puntato addosso Cioè Una piena giornata calda Ma quando si sposta È come se fosse Un altro tipo di orario Cioè il sole non picchierebbe più così forte Ma comunque ci sarebbe sempre luce Non sarebbe mai notte Non ha nessun tipo di senso Non ha logica Se io riporto il sole Dentro il faretto Abbiamo l'angolatura Da 90 gradi Che dà quell'effetto Che secondo loro dovrebbe avere Ma anche se fosse più Più ampio Cosa che non potrebbe essere Perché comunque andrebbe a prendere Oltre la parte Ligia Che qua prende tutto il polo nord In teoria Stando a calcolare Quello che dovrebbe essere La terra tonda Secondo me Va già oltre Quindi Non sarebbe Possibile Aumentare ancora di più La grandezza Del raggio Cioè Non ha senso Se la terra è piatto E se il sole è piatto Non può dare questo effetto In nessun caso In nessun modo Quindi O è un faretto O c'è qualcosa che non torna Nella loro logica Ragazzi Io Non ci credo La terra che è piatta Voi Credete a quello che volete Ma A me Non mi convince per niente In nessun modo Che poi Se stiamo a guardare Non c'è neanche bisogno Di un'illuminazione A 180 gradi Può anche essere Anche a 120 130 Non ha alcun senso Cioè Per quanto mi riguarda Io poi tutto il resto Non lo so Io so Che in base A quello che so Di grafica 3D Illuminazione Tutto quanto Il loro progetto Non ha alcun senso Vabbè Con questo Test Che ho voluto fare Io vi Vi saluto E Vi auguro Buona vita a tutti Ciao a tutti i ragazzi Della Matteo Del canale youtube Supervo84 Ciao 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 a tutti i ragazzi Ciao a tutti i ragazzi Ciao a tutti i ragazzi Ciao a tutti i ragazzi